La stela Zetaumi, chiamata anche Alifa, è la stela che congiunge il timone con il carretto, e vicino a lei si trova la stela più debole del carro minore e chiamata Etaumi. Questa ultima se visibile ad occhio nudo è indice di una buona trasparenza del cielo. La luce di Etaumi giunge a noi dopo 90 anni e storicamente le due stelle, in concomitanza con le altre due stelle che chiudono l'asterismo del piccolo carro, hanno ispirato la fantasia delle antiche civiltà a tal punto da essere chiamate le stelle danzatrici o i guardiani. Questi nomi derivano dal fatto che esse girano intorno alla stella polare e le facevano da guardia.